E anche noi di Acquiradio Web parteciperemo al Il Grande Cuore di Acquiterne, progetto benefico a favore di 633 studenti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a sostegno delle emergenze attuali e future, servizio mensa e bonus studenti. Tutto questo al Centro Congressi di Acquiterne, il 22 e il 23 dicembre. Il programma del 22 dicembre è, dalle ore 21, ingresso offerta, coro gospel di Pozzolo Formigaro. Mentre venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 13.30, degustazione amatriciana a cura degli studenti di cucina dell'Istituto Alberghiero, Costaggini di Rieti, esibizione del corpo bandistico a Quesi, con la partecipazione straordinaria della cantante Giulia Barillari e di Babbo Natale. Degustazioni del panettone artigianale più grande del mondo, con lievito naturale. Esibizioni delle scuole di ballo ASD in punta di piedi e ASD N3. Benedizione natalizia a cura di Don Augusto, professor Piccoli, cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti. Il costo del biglietto è di euro 10, presso Sede Alpini, piazzale Don Dolermo, Acquiterne. L'orario, martedì dalle 9 alle 12, venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 21 alle 23. Presenta Danilo Rapetti. Mi raccomando quindi, Centro Congressi di Acquiterne 22 e 23 dicembre. Vi aspettiamo! Sede Alpini, piazzale Don Augusto, professor Piccoli, cappellano di un'area 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 di un